Ringraziamo FanoTV per questo bellissimo intervento. Oggi abbiamo un nostro fantastico donatore, sono tutti fantastici le nostre donatrici e i nostri donatori che stanno rispondendo in modo portante a questa chiamata particolare. Marco Savelli non è voluto mancare a questa seconda importante donazione. Il presidente di Avisfano ha ringraziato non solo Christian ma tutti i donatori che si sono resi disponibili. Oggi abbiamo un papà, un uomo che per la seconda volta dona il plasma iperimmune, quindi per la seconda volta dedica veramente del suo, togliendo tanto spazio anche alla sua vita lavorativa, per far sì che in un futuro questo plasma possa servire, speriamo tanto di no, ma se succederà, possa servire per curare gli ammalati di Covid. Noi siamo qua per ringraziare queste bellissime persone che stanno dedicando il loro tempo per curare questa maledetta e birichina malattia che è il Covid, questo virus che ha colpito la nostra provincia. Questo periodo, ricorda il presidente, ha colpito anche il mondo delle donazioni e rimane sempre importante. Infatti avere sangue e plasma a disposizione dei medici non solo nei reparti e nelle sale operatorie, ma anche per curare le patologie diverse dal Covid-19. Sappiamo degli sforzi che stanno facendo le dottoresse, i dottori medici e anche le infermiere e i tecnici del laboratorio, stanno facendo degli straordinari, in tanti sappiamo che quasi non sono andate in ferie in questo periodo di Covid, vuol dire che mancano medici. Quindi ancora più uno sforzo dal mondo ospedaliero per venire incontro a medici, infermieri e tutti quelli che sono i tecnici del laboratorio perché abbiamo bisogno. Altrimenti il mondo sanitario dovrà farsi dei punti interrogativi per il prossimo futuro del mondo delle trasfusioni, delle donazioni e del volontariato. Noi ci crediamo, noi rappresentiamo una piccola Avis, seppur nel nostro territorio importante come Avis Fano, sapendo che anche Avis Pesaro e tutte le altre 30 passavis della provincia si stanno impegnando tantissimo. Questo impegno deve venire anche dal mondo aziendale, dato che è un'azienda ospedaliera impegniamoci tutti nell'assumere personale sanitario.